In un tempo di verità relative, in cui persino nella Chiesa si ha paura di parlare di verità con la maiuscola? Bisogna farlo però, perché la verità, Gesù ha detto che è venuto a portarci alla verità, dice che la verità vi farà liberi, la verità vi darà anche la gioia, vi darà la felicità in qualche modo, quindi dobbiamo farlo.